Blur e Rosso fanno a gara chi dona più sub all'altro e dopo che il Rosso fa una grossa donazione a Blur di ben 25 sub Quest'ultimo non gli risponde troppo bene, tanto che il Rosso addirittura ha scoppiato in lacrime nella sua diretta Parlando dei alteggiamenti di Blur, ma non aggiungo altro vi lascio filmati, noi ci vediamo un prossimo video, linea lo studio 25? Sì 25 Hai pagato, non so dove cazzo mi sono cittadini sti soldi Ha scritto RITARDATO RITARDATO ECCOLO Il caglione La merda vada Il disgusto Il disgusto Lo schifo L'orindile Il culo Il rosso Più brutto di Twitch Non dovevi raddoppiare Ma come fa Alexi C'è un uomo di merda Eh Hai capito? Eh Che ti chiedi di essere La nuova di merda Io ero tranquillo Ma come fa Alexi? Eh Se non è il 25 vinto Non ho vinto cazzo! E' un uomo di merda O Grazie a tutti.